papà riumbi dove è stato, prima di fare il video, vi siete dimenticati? dai a tra poco scendo a basso che mi ha parlato, che vuole serice tu da me, pensa a far chiudere e pensa la vita di oggi, tra i seri da casa tu fanno pa 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 pa, credo di stare a seconda, piede per terra ma con un sogno in tasca, vuole essere felice solo mamma e papà, nasconde la sua fragilità Ranger Rover in giro, pare di staccare la mafia, girare per la città, ora ci prendiamo tutti quello che è nostro, calcoliamo sempre più niente, finisce sempre in galera al camp santo, spero che possa trovare poche pace, rimane sempre fedele al quartiere vazzire, io non ho più umido di G.A.